Vai, tuani, tuani! E non ho preso la manina, passo bene un pace La sfida è nata a pinta e capo salvo il pace Quanto è bello, un primo amore, un second Riechi un igiango, un second Ancora, ecco la mani! Come fa, come fa, il coccodrillo come fa, come fa Non lo so, non lo so, si dice mangi troppo, ma metta, metta, matto Che i corini ti manca, che molto spesso manca Cocodrillo, cocodrillo, ma va a fanculo, va Rani, usciamo giù, piazza d'uovo Tu, yo, 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 io, 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 io Solitario della notte, va, se lo incontri, ha paura, va Il suo volto ha la maschera Batman, Tiger Man, Batman Tiger Man, Tiger Man, Tiger Man Cos'è questo? Devi fare l'uomo tigre Secondo me, Batman Devi fare l'uomo tigre, l'uomo tigre Allora, ragioni, ragioni Misterio strano, se lo incontri fa paura C'ha la maschera Il zorro L'ultimo pezzo, credi L'uomo tigre L'uomo tigre O, chiudono ma schifo, vedi O, chiudono ma schifo, vedi O, o, chiudono ma schifo vedi Chiudono ma schifo, vedi No, chiudono ma schifo, vedi N'è modo da mai, moio N'è m'un modo da mai, moio YO! 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 Sacro salamellate! Ma fuzione! Grazie! Grazie! Signore, signore! Vai, 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 vai! Non piazzate! Non andate via! Non andate via! Non andate via! Non andate via! Allora! Allora! Ok, ok, grazie! Ci teniamo nella nostra città a fare dei ringraziamenti importanti per noi e per tutti quanti. Primo! Ringraziamo il, con voi, Comune di Trani! Grazie! Ringraziamo! 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 Ringraziamo la dottoressa di Torino della quinta ripartizione del Comune di Trani! Ringraziamo tutto il Comune di Trani! Il Sindaco! Il Sindaco! Ringraziamo! La Polizia Municipale! Ringraziamo! Ringraziamo! L'assessore alla cultura! L'assessore al turismo! Ringraziamo! Chi ha collaborato con noi per questo evento! O del Regia! O del San Paolo! Forza Security! Sì! Caccia Inferno! Compa La Conca! E tutti gli altri! Signore e signori! No! Un saluto! Un saluto! Un saluto! Un saluto! Due luci! Un saluto! Due luci! L'audiopalto è dietro! Ricraziamo tutti poi! Questo è importante! È un realizzante! Io lo sapevo che poi diventano irascibili A proposito irascibili! Bravo! Che importante perché c'è un gruppo di tifosi di Trani che saluta con cuore! L'ex allenatore! E non me lo devo rincare! Come si chiama l'ex allenatore di Trani? Giacomo Pettinicchio Pettinicchio, ui! Giacomo, stai tranquillo Lo siamo ricordati Lo siamo ricordati Lo siamo anche a San Devo per il quadrilino Pazio Poi lo ritroffiamo anche, aspetta Ricordiamo a tutti l'appuntamento del centro Jovel O Jovel, come dico, Mimo Dal 17 di luglio Vi aspettano per il disagio che mette a disagio Non mancato perché è molto importante E fate un applauso a gente che fa E non per un grazie Quindi andate E a Labis Domenica c'è una dorazione straordinaria Non la dimenticate Ricordiamo a tutti che da ottobre parte una cosa molto importante Che è il laboratorio a Trani Siamo gli unici in Puglia del laboratorio Torgato Zedic Unici in Puglia, Bananas, quindi Zedic Milano hanno scelto la città di Trani Per formare nuovi comici Dopo sei anni Quindi fate un applauso a questa iniziativa Perché dai laboratori di Zedic Nascono questi tre uomini qui Signore e signori Presentiamo i protagonisti Per la volta, per la prima volta qui a Trani Il maniaco di Zedic 2011 Adria San Bucco Diretamente da Torino Il senso Buono, 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 buono La cagliera E un trio Il mancestigua Loro sono Andiamo Magistigua 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 Il mancestigua E poi E però Andrani Lo vogliamo più forte Questo applauso Per i vostri compaesani Marco Benchito Grazie a tutti Grazie, grazie a tutti E di amore Ciao Ciao a tutti Buon ruine Alla prossima Ciao